Bene, amici di Non Solo Mare, qua dal salone di Dusseldor, dal salone che ormai l'abbiamo definito un po' il salone d'Europa, con noi c'è Matteo Genet della Nautica Modena, rappresenti due nomi che per noi sono nomi importantissimi, non solo per noi ma per tutta l'Italia, Comitti, Mostre, ma io direi a livello mondiale perché ormai queste imbarcazioni, questi due nomi di cui abbiamo appena parlato, insomma rappresentano per Mostre, sono cent'anni di storia, un secolo e Comitti ci siamo vicini. Sì, è una grossa responsabilità, siamo qua che rappresentiamo due marchi, noi crediamo molto nel mercato tedesco e investiamo in questa direzione, c'è anche da ricordare che comunque da noi sul lago il 90% dei clienti sono tutti tedeschi e specialmente di queste zone qua. Diciamo che sul lago Ligarda spesso si sente parlare tedesco, quindi insomma ormai se lo sono comprati sto lago. Solo tedesco, d'estate sì, ormai è così, fortunatamente perché vuol dire che il lavoro comunque c'è. Ecco, queste due tipologie di imbarcazioni sono due barche che entrambe rappresentano uno stile di vita, ricordiamo che sono due barche particolari, due tipologie di barca molto particolari, Comitti è uno stile molto classico, molto romantico che permette di vivere il lago ma anche il mare ovviamente con una barca che si armonizza con quello che è proprio anche il tramonto, l'alba, ecco questi sono i momenti in cui si vede lo stile Comitti, poi c'è l'anima sportiva invece delle imbarcazioni Monsters che è un po' più pronunciato quello che per noi è le caratteristiche delle performance della barca, anche se poi qua abbiamo a vedere questa barca, è bellissimo, l'Offshore 31 Evo, colori bellissimi, dettagli molto curati, molto ricercati, però è un po' più sportiva di quanto riguarda i miei Comitti, questa è stata una vostra scelta che ha voluto distinguere proprio, no? Esatto, allora innanzitutto noi proponiamo solo prodotti fatti a mano, di qualità, proprio perché ci teniamo a seguire il cliente dal momento dell'ordine al momento della costruzione alla consegna, con un prodotto del genere si può seguire ogni fase della produzione ed è una scelta che abbiamo fatto, noi non ci metteremo mai a vendere prodotti di serie, dove si può scegliere magari tra due o tre colori e basta, da noi per scegliere una barca al momento dell'ordine ci si mette dai due ai tre giorni per scegliere tutte le varianti, personalizzate, esatto, poi come hai detto tu sì, sono barche esteticamente completamente diverse, Monsters un attimino più sportivo, per un pubblico diciamo un attimino più giovane, mentre Comitti è una barca molto più elegante e raffinata, la qualità però è eccezionale in tutte e due le barche e la costruzione è quasi simile, diciamo, sono barche create interamente a mano. Su quello che è l'Offshore 31 Evo, novità mondiale, perché è la prima volta che il pubblico, ma compresi noi, perché noi l'avevamo vista in costruzione, ma finita l'abbiamo vista tutti qua, questa è una barca che insomma racchiude cent'anni di storia, cent'anni di storia non ce li hanno in tanti, per voi insomma è anche bello poter proporre al cliente qualcosa che non è soltanto una bella barca, ma è proprio, avete scritto mi pare, se la professione non esiste ci siamo andati vicini. Allora, non so se avete visto anche il nostro slogan, è stato cent'anni di esperienza, quattro generazioni di passione, tutto rinchiuso in una barca sola, ed è l'Offshore 31 Evo comunque, sono stati alcuni accorgimenti minimi diciamo rispetto al 31 che era già una barca eccezionale, ne abbiamo vendute molte sia sul lago che al mare. Noi negli ultimi anni abbiamo visto tanti cantieri che per poter sopravvivere in un mercato difficile come l'italiano si sono rivolti su mercati stranieri, internazionali e per quanto riguarda un cantiere che produce imbarcazioni ci sta, perché però voi che rappresentate i cantieri in Italia invece vi trovate a lavorare principalmente con mercati che sono quello tedesco e limitrofi, questo è un po' un'anomalia, no? Però è anche il bello di essere sul lago di Garda. Il lago non fa conto, da noi sul lago sono solo tedeschi, qualche olandese ed italiani. Solo le targhe sono italiane, per modo di dire. Esatto, solo quelle, e le barche. Ma com'è il pubblico tedesco, ecco, perché qua siamo a Dussendor il primo giorno, abbiamo visto una buona affluenza, com'è il tedesco? È certamente più esigente, più attento ai particolari che fa il pubblico italiano, infatti bisogna stare molto attenti alle lucidature, ai dettagli, bisogna sempre controllare tutto due o tre volte in più. Mi ha visto a bordo dell'Offshore 31 con un pilota di P1 oggi che è venuto a vedere la barca, che cosa ti ha detto? Perché lui è venuto a correre, eh? Esatto, è rimasto intanto sorpreso dai consumi, con i 2,350 Magnum siamo appena sopra i 30 litri, che è incredibile per una barca di 3 tonnellate alla fine, e la velocità massima di 52-53 nodi, e subito ha voluto a vedere la carena ovviamente. Infatti abbiamo visto che è andato sotto. Però gli è piaciuta, quindi va bene. Bene, allora Matteo, noi ringraziamo te per la disponibilità, ti facciamo tanti complimenti a Nautica Modena perché comunque in tanti anni ha permesso a questi cantieri di crescere ancora di più, di quanto già erano affermati, grazie a quel mercato che voi conoscete bene, che è il mercato tedesco sul nostro lago di Garda, quindi importato in Italia, che però ci sta dando grandi soddisfazioni e permette a realtà importanti della nostra nautica italiana di continuare a sviluppare nuove idee, nuovi modelli e dare ancora a tutti la possibilità di ammirare quelle che sono le nostre capacità di costruire imbarcazioni in Italia. Esatto, io intanto vi ringrazio, ringrazio te che sei venuto apposta e ti rinnovo l'invito ovviamente da noi sul lago per provare il 31 Evo. Noi non mancheremo. Dopo la fiera viene subito da noi, quindi... Allora noi sentiremo il rombo che oggi ci è mancato, perché qua non possiamo... Vedo la parla infatti, non vedo l'ora. Bene, grazie Matteo, a presto, ciao. Grazie. Il mondo, secondo me, è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il Mondiale del 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua... Prima il Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico... Con... Grazie. 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 Grazie.